La nuova Sondrio Calcio vuole conservare il primo posto e per farlo deve uscire indenne dalla difficilissima trasferta sul campo dell'Alta Varianza. Domenica alle 14.30 i Biancazzurri saranno impegnati nel big match di Canzo in provincia di Como contro un'altra formazione che lotta per rimanere nelle zone di vertice del Girone B di Eccellenza. I Valtellinesi infatti si trovano al primo posto con 23 punti a pari merito con il Mapello, mentre i Comaschi seguono a sole due lunghezze. Una gara decisamente insidiosa per i ragazzi di mister Fabio Fraschetti che ritrova Rossi al rientro dopo la squalifica, mentre non potrà contare ancora su Viviani e Moletta, entrambi infortunati. La nuova Sondrio arriva da cinque vittorie consecutive compresa la Coppa Italia. Dall'altra parte l'Alta Varianza è una squadra forte ed esperta con giocatori di qualità e un mister esperto come Andre Ardito. E nel campionato in corso non perde dalla prima giornata in casa del Treviglio. Servirà una gara di altissimo livello da parte dei Sondresi per poter tornare a casa con i tre punti. E comunque vada mister Fraschetti può essere contento per un nuovo innesto per la stagione. È infatti appena arrivato Alessandro Politi, attaccante comasco classe 2003, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter per poi passare alla primavera 2 del Como e dall'anno scorso la Vibonese in Serie D. Alessandro è un ragazzo che si sposa bene con il nostro progetto, ha spiegato il direttore sportivo Cristian Salvadori. Reputo sia molto funzionale a livello tecnico, ma anche a livello di professionalità per integrarsi al meglio in questo gruppo che sta facendo cose molto importanti. Sarà sicuramente una freccia in più al nostro arco.